Ancora critiche dal centro-destra, da Forza Italia alla gestione della sanità in Abruzzo, della giunta d'Alfonso. Si parla di questi vent'anni che potrebbero vedere grossi sacrifici per i cittadini abruzzesi. Sospiri perché? Perché noi dobbiamo realizzare i nuovi ospedali Avezzano, Lanciano, Vasto. Nella programmazione c'era Giulianova che non troviamo più, il nuovo presidio ospedale di Penne che non abbiamo ben compreso e sul Mona grazie a un contributo ottenuto dal governo Chiodi che prevedeva un confinanziamento regionale. Giustamente la giunta di allora aveva previsto che il confinanziamento era corrisposto con la consegna di vecchi immobili, ovvero degli attuali ospedali, al fine di rigenerarli e di non gravare sulle tasche agli abruzzesi. Chiaramente questo prevede un rischio di impresa, mi appare evidente. Adesso si modifica la previsione di contributo regionale e si inseriscono soldi reali. C'è una delibera di giunta alla 403 che dice, e credo sia un atto di accusa su cui gli abruzzesi dovrebbero riflettere, che dice che siccome nel 2021 scade l'ultima cartellizzazione di 148 milioni di euro, 56 milioni di anni o ancora da pagare, e siccome il bilancio della regione Abruzzo è stato costruito in questi anni per pagare queste rate e quindi meno spesa, più tasse agli abruzzesi, gli abruzzesi sono in grado di mantenere questo livello di indebitamento anche per i prossimi 20 anni. Io credo che il commissariamento sia finito, dobbiamo restituire agli abruzzesi ciò che è stato tolto, cioè abbiamo messo il super ticket, c'è l'addizionale IRPEF che andrebbe tolta, c'è l'addizionale IRAP per le imprese che andrebbe tolta, noi anziché togliere queste tasse aumentiamo le tasse e aumentiamo l'indebitamento. Credo che ci sia da riflettere. Quindi per i prossimi 20 anni, invece che chiedere agli imprenditori di riqualificare le strutture nostre obsolete in luogo della costruzione dei nuovi ospedali, noi gli daremo le tasse che gli abruzzesi continueranno a pagare e con grave danno alle nostre economie, perché se noi non alleggeriamo di tasse gli abruzzesi la nostra economia non ripartirà mai.